ma chi cazzo vabbè oh io non riesco con questi che giocano così c'è ma vengono c'è in mamma no sì 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 mamma me mamma mi che c'è fatto a chi sto mamma me ma donna me mamma mi che c'è fatto a questa ruota con un millimetro di vite mi ha fatto che a cosci mi ha chiamato il giusto ma ne frecchiamo bene con un millimetro di vite